Signori, che dire di questa prestazione a dir poco allucinante, un derby squallido da tutti i punti di vista, un primo tempo dove potevamo anche passare in vantaggio, Vlaovic ha beccato un pomeriggio disgraziato, ma non è il primo e secondo me non sarà neanche l'ultimo, ma poi nella ripresa lasci completamente le redini così, le butti via così, non te ne frega più niente di giocare, non te ne frega più niente di provare, almeno ad andare dall'altra parte. Cosa fa il furbone? Cosa fa il nostro mitico Allegri? Toglie l'unico che stava cercando di creare qualcosa. Per mettere Ildiz per l'amor del cielo, che è un talento, ma non riusciamo mai, mai a vedere una situazione dove Ildiz e Chiesa sono in campo nello stesso momento. Cioè non può essere che Chiesa può giocare a destra e Ildiz a sinistra, no. È vietato, è vietato dal gioco del calcio. In più tieni Vlaovic, che obiettivamente parlando, se non lo togli stasera, cioè ma quando lo devi togliere? Ma quando lo devi togliere, che non è azzeccata una. E mi dispiace per Vlaovic, ma stasera è indifendibile. Cioè ne ha combinata una dietro l'altra. Ma non mi soffermerei su questo. Mi soffermerei sulla voglia che è mancata di vincere questa partita. Cioè noi dobbiamo ringraziare le altre squadre che vanno avanti, no, come l'Atalanta, come la Roma, perché poi noi ci qualifichiamo arrivando quinti. E allora siamo a posto. Ma che ragionamento è? Ma perché non ci mettiamo a consolidare quello che è il terzo posto? Tentiamo di arrivare al secondo? Vedete anche qui la mentalità perdente da quella vincente. Cioè accontentarsi di arrivare quinti perché tanto sei in Champions League. Faccio veramente fatica a capire quelli che sostengono ancora questa cosa. E secondo me non siete più convinti neanche voi, neanche i più fedelissimi di Allegri sono consapevoli che è arrivato il momento di cambiare. Peccato con due anni di ritardo, perché il primo anno si può concedere, ma il secondo e il terzo non te li do per buoni. Siamo riusciti a far giocare il Torino che non aveva neanche voglia di giocare e vanno a vincere quasi la partita. Io se fossi lui me ne andrei, ma per dignità. Non guarderei neanche più i soldi, il discorso della tifoseria, il discorso che ci tengo a portare a fine un progetto vincendo la Coppa Italia e quindi vinco qualcosa e me ne vado. Io andrei via perché non si può vedere una squadra così in campo che non combina niente. È deprimente una cosa del genere. È semplicemente deprimente.